Come mai Luis Figo ha scelto di firmare una linea di moda maschile? Io credo che questo fai parte delle vivenze della vita, anche il gusto per la moda, in generale per il vestire, per il prodotto, per la qualità, per quello ho deciso di cominciare questo nuovo progetto nell'area della moda e spero che come nel calcio puoi avere un esito da parte della gente che le gusti e che accompagni questo progetto fino a fondo. Cosa caratterizza la prima collezione di Luis Figo? Credo che è una collezione che si identifica con un uomo sobrio, elegante, sportivo, un uomo anche cosmopolita che sta abituato a viaggiare e che le piace anche la qualità del prodotto. Il suo look preferito della prima collezione? Quello che ho adesso per l'estate, credo che è un look abbastanza confortabile, abbastanza di prodotto di qualità e anche di buon gusto.